Il futuro delle scienze della vita si costruisce in Toscana. È la sfida lanciata dall'evento Generiamo il futuro delle Life Sciences, ospitato per due giorni dal polo didattico Mattioli e dal Santa Maria della Scala a Siena, organizzato da Toscana Life Sciences e Regione Toscana, nell'ambito dell'evento informativo annuale del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Istituzioni, scienziati e ricercatori insieme per gettare le basi dello sviluppo di un settore che conta 16.000 addetti, mille impegnati nella ricerca per fare della Toscana un polo europeo di attrazione degli investimenti. Da Siena il Presidente Enrico Rossi ha rilanciato l'idea di un sistema di brevettazione a disposizione della ricerca e l'appello a introdurre subito i farmaci innovativi. Come vi dicevo, nell'arco di sette anni, da quando sono Presidente, se vogliamo prendere lì il punto, abbiamo spesso in ricerca sanitaria, senza che questo fosse dovuto da nessuna legge, qualcosa come 140 milioni, 145 milioni, una cifra piuttosto importante nell'arco di otto anni. A questi si sono aggiunti fondi europei che abbiamo dato a imprese e che abbiamo dato a ricercatori. Due sessioni plenarie, cinque focus tematici, eventi e una tavola rotonda in cui sono state discusse le strategie di sostegno alle Life Sciences in Toscana, l'unico settore che non conosce crisi e che dal 2007 ha continuato a crescere, superando nel 2018 la Germania. Sono un settore importantissimo, sia dal punto di vista della ricerca, ma soprattutto del rapporto fra la ricerca e l'impresa. Insomma, il successo di TLS, la centralità appunto del sistema senese in Toscana su questo settore è, diciamo, innegabile. I progetti di ricerca finanziati dall'assessorato al diritto alla salute sono stati 277 per un totale di circa 118 milioni, finanziamenti provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione. A breve uscirà il nuovo bando ricerca salute 2018 con una dotazione di 22 milioni e mezzo. Avere un distretto come questo oggi ci consente di provare a sviluppare nuove tecnologie, anche di fare sperimentazioni su nuovi farmaci, anche lavorare su uno sviluppo e una crescita che nel questo territorio sta creando un'occupazione importantissima, un impatto occupazionale straordinario. Per favorire lo sviluppo del settore dal 2010 operativo il distretto toscano delle Scienze della Vita che riunisce tutti i soggetti pubblici e privati attivi in farmaceutica, biotecnologie, dispositivi medici e in tutti i settori che applicano le nuove tecnologie alle Scienze della Vita.